buonasera buonasera a tutti benvenuti alla seconda puntata di mondo futsal questa sera non avremo presente Alessandro Brizzi perché è stato febbricitante ma ho sostituito con un altro grande amico e ospite abbiamo qui Alessandro Chito Mascolo buonasera Alessandro ciao Roberto buonasera grazie mille dell'invito in questa puntata buonasera anche a tutti quanti telespettatori come ha anticipato già Roberto io sono Alessandro Mascolo detto Chito e sono un amico e anche un allenatore di futsal sul fatto dell'allenatore potrei un po' dissentire però comunque dai ti diamo questo titolo lo sei dato da solo e ti accompagniamo in questa convinzione veniamo a una piccola analisi della turno di serie A il sesto che ormai è alle spalle e cosa dà più all'occhio in questa sesta giornata oltre all'ennesima vittoria della capolista è così di Cenzano che è appunto capolista a punteggio pieno cosa cosa hai dato all'occhio in questa giornata? mi ha dato all'occhio il pareggio interno della fortitudo contro il Napoli comunque è stato un risultato importante per la fortitudo Pomezia contro una squadra che sappiamo che è attrezzata alla vittoria del campionato come il Napoli comunque il Napoli e i polvio Polini ogni anno è una delle pretendenti al titolo è stato un pareggio importante perché anche il Pomezia per molto tempo della partita è stato anche in vantaggio addirittura sul Napoli è stato recuperato col portiere in movimento nel finale eri proprio presente al Panalavinium quindi hai avuto questa impressione che diciamo dall'inizio del campionato stiamo dicendo che tutte le società sono attrezzate e si assiste sempre a match molto equilibrati sì è un campionato veramente equilibrato oltre il pareggio del Panalavinium che ho visto di prima persona anche il resto delle partite sono state tutte tiratissime le squadre che comunque sono rilegate nel fondo della classifica comunque se la giocano sempre con tutte solo per piccoli errori, dettagli vanno a perdere le partite e sono bloccate nel fondo della classifica un campionato equilibrato dalla prima all'ultima squadra è complicato giocare con tutti oltre a questa partita che ci ha esaminato altri due pareggi ci sono stati in Serie A quelle tra l'Alvinium Italy Petrarca e l'L84 e quella tra lo Sporting Sala Consilina e il Meta Catania questo Sporting Sala Consilina continua a meravigliarci da neopromossa ha bloccato anche i campioni d'Italia è stata una grande partita quella del Sala Consilino hanno giocato una partita importante in fase difensiva contro la squadra che il Catania ha grandissima individualità oltre che un gran gioco di squadra che guarda a tutto l'organico sono andati addirittura in vantaggio poi recuperati da una gran giocata di Turmena sono una squadra che da filo da torci arrivano ad una vittoria importante contro la Roma 1900 Futsal 1927 Futsal mi ero scordato numero per strada contro la Roma e questo pareggio col Catania quindi anche loro non si nascondono perché vorranno fare un campionato importante perché di giornata in giornata in anellano risultati positivi io credo anche che sia importante la vittoria della Fel di Eboli in esterna così come quella della Cammetreviso che ne pensi della competitività della Fel di Eboli che sicuramente non è una novità qual è il livello oppure la posizione in cui collochi la Fel di Eboli nello scacchiere di un'ipotetica griglia scutetto? Eboli è anche lei una delle candidate a giocarsi un posto nella finalissima scutetto ha cambiato tanto rispetto alle stagioni precedenti ma ha avuto anche la fortuna di andare sul mercato a prendere un mister importante come Antonelli che ha dato un gioco alla squadra che si sta vedendo in queste partite un gioco nel quale porta molti frutti la vittoria col Napoli in casa per 5 a 0 la vittoria importante di Pesaro perché il Pesaro comunque anche se è solo un punto è una squadra veramente attrezzata bene con giocatori di un certo calibro come Barrichello e Tomei invece io volevo dire se ti aveva sorpreso questo riscatto della Roma sul campo sempre ossico della Sandra Abate Avellino la Roma doveva riscattarsi e l'ha fatto anche bene perché comunque la squadra di Piero Basile e la Sandra Abate è una squadra sempre complicata da affrontare ha giovani veramente interessanti come Lavrendi, Henry e Kenji anche che sta facendo benissimo quindi è stata una vittoria importante e di squadra hanno giocato bene e si sono ripresi da comunque i passi falsi contro l'Ecosity e il Salaconsilina in ultimo volevo invece evidenziare la vittoria per 5 a 4 della Vitulano Dragstore Manfredonia sul pirossino di Girono Cosenza che impressione ti sei fatta di queste neopromosse comunque che stanno ben figurando in questa fase iniziale di stagione? l'impressione è sempre la solida che è un campionato tosto, molto livellato perché anche le big o le neopromosse se la giocano apertamente con tutte le squadre della Serie A il Manfredoni ha ottenuto una vittoria importante contro il Cosenza nel finale anche per via dell'espulsione di Jefferson a 1 minuto e 32 dalla fine ha saputo sfruttare il 4 contro 3 ha messo in cascina altri 3 punti che la catapultano in zone alte della classifica da neopromossa comunque è un grande posizionamento in classifica ma ce lo dobbiamo aspettare comunque Cepi è un signor allenatore che dà sempre una grandissima forma atletica alla squadra come hai anche potuto vedere e poi ha giocatori esperti come Andre Ferreira, Mauro Canal che comunque di questo sport hanno fatto la storia e stanno dando una grossa mano ai giovani e i ragazzi che si stanno integrando in Serie A a portare risultati importanti Adesso andiamo un po' sullo specifico e sostituiamo il buon Brizzi con qualche domanda specifica facci il tuo personalismo setting 5 della Serie A è una bella domanda non ti do opzioni, devi proprio farlo sono libero quindi sei libero però senza O-O uno allora, dalla porta vabbè, dubbi non ce ne sono il portiere più forte in Italia più forte secondo me in Europa che è Stefano Mammarella e tranquillamente come centrale difensivo io vado a scegliere Luciano Avellino oltre che per affetto nella mia ideale starting 5 è un giocatore che dà gioco e anche tanta garra alla squadra che può aiutare come laterali io scelgo Matteo Sbarichiello del Pesaro che comunque è un giocatore veramente interessante e vado su NEM dell'Ecosity anche lui è un giocatore brevilinio che dà tanta quantità alla squadra ma anche qualità davanti come pivo punto su Rocia dell'84 va bene, quindi Rocia è un nome che accomuna un po' tutti un po' come Mammarella dal punto di vista invece diciamo del secondo te dell'acquisto migliore di questa stagione anche se siamo in fase iniziale quindi è ancora un po' tutta da sviluppare il rendimento dei giocatori qual è secondo te? l'acquisto migliore anche per i risultati te ne do due qua, ti puoi scegli anche due diciamone come opzione sul primo vado sicuro senza dubbio anche per i risultati che stanno arrivando è Tabor Dalle Così comunque ha dato tanta qualità, quantità a livello difensivo, offensivo alla squadra i risultati si vedono quindi vado sotto a bordo e il secondo Kenji per la San Drabate comunque era una sorpresa in Serie A perché arrivava al campionato spagnolo sta facendo molto bene sta portando tanti punti alla San Drabate della squadra di Piero Basile molto bene qua tra un pallone e una scarpetta ho visto che c'è una maglia prestigiosissima la puoi girare così fai vedere di chi è girala bene, la puoi lasciare pure così di spalle Bertoni, un'icona del calcio a 5 nazionale una vera icona del nostro sport quali sono i tuoi ricordi o comunque le tue sì i tuoi ricordi diciamo anche se sei molto giovane della carriera di Edgar Bertoni Bertoni è un giocatore assoluto per il nostro sport un'altra icona come altri che ancora sono ancora stanno giocando di lui mi ricordo i molti studetti vinti se non erro mi pare 5 o 6 ne ha vinti lui comunque ha fatto anche le famiglie della nostra nazionale perché come penso possono sapere tutti è naturalizzato italiano e quindi però che cosa se dovresti legare proprio Bertoni a un'immagine particolare a una vittoria particolare a qualcosa di specifico ovvio che sei molto giovane però una cosa diciamo essendo un campione un'icona del calcio a 5 italiano che cosa è che diciamo ti rimane impresso di lui è impresso di lui così a memoria per la mia giovane età mi ricordo gli anni della Luparenza nel quale ogni anno la Luparenza e il Pescara si giocavano le finali Scudetto e lui faceva sempre la differenza a favore della Luparenza per portare a casa i titoli per la società blasonata sì poi lui comunque ha esaltato molto il lavoro fisico aveva sempre un fisico tirato al massimo è sempre stato in forma fino all'ultima partita della sua carriera però adesso bidi 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 boom guarda che ti faccio vedere un'altra maglia iconica di chi è questa maglia? di Umberto Onorio quindi fammi un feedback anche su Umberto Onorio passiamo da un godo del fuzzala a un altro Onorio anche lui grandissimo giocatore soprattutto anche lui un ex giocatore della Luparenza dove insieme a Bertoni ha portato alla società tantissimi scudetti lui addirittura a memoria ne ha vinto anche di più di Bertoni mi pare nove giusto? sì è il record mandito è il record mandito assoluto lui grandissimo giocatore che lui ancora gioca ancora sta facendo le famiglie nel nostro calcio a 5 ma beh è ovvio che la classe non si sciupa con l'età anzi normalmente è il contrario perché acquisendo esperienza si riesce a dare un contributo notevole ai propri soprattutto ai propri compagni di squadra e ai propri allenatori contributo fondamentale e quindi soprattutto anche per la crescita dei giovani visto che comunque parlando di Bertoni parlando di Onorio comunque si parla anche di Nazionale dimmi la tua impressione sugli inizi dell'Italia di Salvatore Samperi ha iniziato bene la nuova era di Samperi comunque sta cercando di dare una nuova impronta al gioco sta cercando di inserire sempre nuove persone come abbiamo visto anche Venanzio è stato inserito nella lista dei convocati può fare bene perché darà nuova linfa nuovo entusiasmo ha comunque un nuovo ciclo che cercherà di fare bene invece tu che sei un attento conoscitore ma un forte appassionato di questo sport cosa ti ha sorpreso in positivo nei recenti mondiali che sono andati in scena nei recenti mondiali allora la cosa che ha sorpreso tutti è stato il Venezuela che comunque ha fatto un percorso importante eliminando anche la Spagna poi comunque la finale del Brasile è stata veramente importante ha dato grande linfa a questo sport perché è stato proprio bellissimo vederla diciamo che comunque rispetto ai favori iniziali è stata comunque un'edizione abbastanza ricca di sorprese no? si è stata ricca di sorprese come l'eliminazione della Spagna comunque una finale con Argentina e Brasile nessuno se lo aspettava vedono il Portogallo comunque era uno dei campioni uscenti arrivare in finale che pure ha interrotto il percorso prima cosa pensi dello sviluppo dei settori giovanili visto che comunque operi in tal senso diciamo anche riferito alla alla riforma che ha fatto tanto discutere con i formati non formati e comunque la valorizzazione adesso c'è anche la poppa divisione in cui vengono diciamo utilizzati gli under 23 penso che sia giusto per dare nuova linfa a questo sport bisogna inserire i giovani i giovani per crescere devono giocare e quindi è giusto che vadano messi in campo ovviamente con persone di esperienza in squadra potranno crescere prima o dopo ma se non vengono inseriti ma gli ganatori devono essere buoni o come te? ovviamente buoni non come me se no la crescita dei giocatori si interrompe proprio sul nasce naturalmente scherziamo ma anche no però adesso Alessandro voglio farti una domanda invece sulla Champions le due impressioni sui primi turni preliminari e su quello che può essere le ambizioni del Meta Catania i turni preliminari hanno visto il Catania comunque passare bene il girone in particolare in modo quello giocato in casa ora ovviamente la spetterà un altro girone quello d'elite che si svolge da Cartagena con squadre molto più impegnative di quelle che ha affrontato perché troverà la società blasonate come Enrica che fino all'anno scorso comunque nelle proprie fila aveva Ricardigno oltre tanti altri giocatori di spessore il Cartagena che è un'altra squadra che comunque dice sempre la sua nel campionato spagnolo e la squadra rumena Cartagena tra l'altro ex squadra di Lucio Avellino esattamente anche la squadra attuale di Gabriel Motta una persona molto conosciuta nel nostro futsal italiano e quali sono secondo te le percentuali ipotetiche di riuscire ad andare alla Final Four del Catania allora la Final Four sinceramente senza che nessuno si offenda non te lo so dire perché come secondo me non tante così sulla carta perché comunque sono squadre con molta più esperienza europea del Catania sicuramente farà bene in questo girone qui di fine novembre perché è attrezzata per competere con delle squadre importanti come il Cartagena o il Riga come già detto prima passando questo girone poi le probabilità vanno sempre più alzarsi comunque sarà combattuta perché in Europa qualsiasi partita è combattuta dall'inizio alla fine è tutto diverso rispetto al campionato italiano una cosa che adesso non c'entra niente però mi è venuta in mente adesso mentre ti osservavo siccome sei un grande appassionato collezionista riferito alle maglie quali sono nella tua personalissima collezione di maglie quali sono le tre maglie top che hai nella tua collezione dai giusto per giusto per diversificare per sdrammatizzare un po' anche a modo di gioco quali sono le tre maglie la prima maglia è scontata quella di comunque Ricardigno di quest'anno alle Cositi quella è la prima in assoluto della collezione poi come secondo pezzo non ti dico una maglia ma il pantaloncini della finale del mondiale dell'argentina di Gerardo Battistoni ottimo quindi è quello e come terzo pezzo la maglietta del Barcellona Calciacinque firmata tutta la squadra molto bene e chi te l'ha firmata sta maglietta eh sta maglietta segreti non me la racconti giusta segreti volevo visto che poi sei stato ribattezzato soprannominato Kito 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 per il tuo forte legame con Kito Ferreira vorrei che ci racconti una breve descrizione di questo tuo legame con l'allenatore la breve descrizione il legame è nato nel raccontaci un po' nell'anno nel quale lui venne qui a Latina comunque io ero nei primi periodi che ero nel FUZZA e comunque lui mi diede la possibilità comunque di iniziare a esprimermi anche sbagliando comunque lo aiutavo tanto nella parte comunque di sedute dei video degli tagli per preparare le partite da lui poi ho imparato quelle cose all'inizio di campo le prime cose di campo che non mi scorderò mai io ti voglio dire una cosa tu comunque come sport diciamo praticato vieni dalla palla a nuoto venendo dalla palla a nuoto perché mi ha sempre un po' incuriosito che tutti gli sport anche nella palla a nuoto viene considerato uno sport da cui trarre spunti per il calcio a cinque come diciamo un po' sulla falsariga del basket che tipo di affinità che tipo di simbiosi c'è tra i due sport l'affinità maggiore è quella nel quale rispetto a altri sport non ci sono ruoli di attacco e ruoli di difesa tutti quanti si attacca e tutti quanti si difende questa è la maggiore affinità poi comunque è legata anche a un gioco molto tattico come quello del calcio a cinema tu nella tua esperienza diciamo di atleta hai diciamo approfittato hai usato le tue esperienze di palla a nuoto per trasmettere nel calcio a 5 oppure no guarda mi ha dato una mano all'inizio nel capire il concetto di tutti attaccare tutti difendere perché arrivavo già da quella mentalità comunque per chi pratica uno sport ad esempio come il calcio quindi si trasferisce nel calcio a 5 è qualcosa di visto come una cosa stranissima che tutti quanti attaccano e tutti quanti difendono quindi quella là sicuramente è stata la cosa che mi ha dato molta subito percezione dello sport e di far capire anche poi nel tempo negli anni quando ho lavorato con i ragazzi questa cosa che tutti quanti da squadra si attacca e da squadra si difende bene siamo arrivati anche alla fine di questa seconda puntata salutiamo chi non c'è in questo momento che è Alessandro Brizzi ma soprattutto salutiamo e ringraziamo Alessandro grazie 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 della tua partecipazione ti sei dimostrato competente e anche abbastanza elettrico nelle tue spiegazioni salutiamo e ringraziamo alla regia Dario Valeri detto Spider Derio e Manel Camammi detto Cammanuel e vi diamo appuntamento alla prossima puntata